Siamo con Beatrice Biasia, coordinatrice giovani e diciamo che è la regia di questa Spring School 2023. Qual è l'atmosfera che si espira qui e come i ragazzi stanno vivendo questa prima giornata? Allora, i ragazzi sono pronti, sono anche carichi, hanno voglia di iniziare questo convegno, sono anche emozionati, io per prima, quindi c'è una bellissima atmosfera, c'è una bellissima atmosfera giovane e soprattutto stanno arrivando anche i nostri supporter, un po' più over, che stanno portando un sacco di ragazzi, quindi siamo pronti a partire. Grazie 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 Grazie